Anticorpi bispecifici L'anticorpo bispecifico viene creato in laboratorio. È una specie di legame che si costruisce con due ganci su entrambi i lati. Un lato si attacca a una cellula cancerosa e l'altro lato si attacca a una cellula killer. Una volta in posizione, questo legame permette di avviare delle azioni che eliminano le cellule cancerose, come il richiamo di altre cellule killer e il rilascio di un prodotto che uccide la cellula cancerosa. Questa tecnica ha buoni risultati per alcuni tumori del sangue e sono in corso delle ricerche su diverse combinazioni di punti di aggancio. Alla prossima Alla prossima Attraverso Grazie a tutti.